E su Radio FM1 proseguiamo la nostra mattinata, la nostra diretta della Vigilia e sottofondo John Lennon di Harlem Community Chair e poi Yoko Ono, insomma Happy Christmas World is over, stupenda vero Paolo? Sì molto bella, stavo pensando, intanto do il bentornato all'Arcivesco Monsignor Rocco Pennacchio, bentornato in radio in questa Vigilia di Natale, come le canzoni a volte rappresentino l'umore della gente, qui si diceva la guerra è finita, si parla di questo Natale ideale, però ovviamente parliamo di un Natale ormai di qualche anno fa dove la guerra, insomma le guerre nel mondo erano la grande problematica. Oggi ci troviamo, oggi ormai purtroppo da un paio d'anni ci troviamo a vivere un Natale diverso dove grazie a Dio, oddio ci sono ancora le guerre, forse se ne parla poco perché riguardano i paesi anche purtroppo che non hanno molta visibilità mediatica, però stiamo vivendo un paio di Natali molto più riflessivi rispetto a quelli del passato, no? Con questa Vigilia come si approcciamo? Eccellenza. Vorrei cogliere un motivo che spesso non viene considerato quando parliamo dei motivi di riflessione, prendo spunto dalla canzone che avete inserito, in effetti ambientata in anni in cui c'era una sensibilità molto forte, specialmente tra i giovani, per la mondialità, per quello che accadeva nel mondo e quello che era accaduto nel mondo. Il Covid potrebbe darci, tra i motivi, tra i tanti motivi di riflessione e di raccoglimento, anche questo spunto di riflessione. È una, potremmo dire, una livella, direbbe Totò, un'epidemia che sta mettendo tutti sullo stesso piano, tutti i paesi sullo stesso piano. Anzi, sembrerebbe, da quando è scoppiata, che chi è più benestante corre più rischi dei paesi più poveri, anche perché quelli probabilmente hanno meno occasioni per muoversi e per avere scambi anche con altre nazioni. Allora, uno dei motivi di riflessione che appunto suggerirei è anche questo. Il Covid ci sta comunque aiutando a sentirci parte di un mondo più grande, più grande del nostro piccolo ambiente, del nostro piccolo gruppo, dei nostri piccoli interessi. Ci sta, forse, potrebbe farci uscire un po' da questo endemico, questo individualismo che ci prende e in fondo ci ha fatto uscire anche da quella presunzione di onnipotenza che potevamo avere. Un piccolo virus ha messo sotto scacco tutti il mondo, specialmente quello sviluppato. Io darei questo come motivo di riflessione in generale, anche per sentirmi parte di questo mondo. C'è da fare un passo ulteriore, tu lo accennavi prima. Ci sono tanti paesi che noi non conosciamo e che certamente hanno una vaccinazione al momento della popolazione che è al di sotto anche del 10-15%. Questi paesi vanno aiutati, vanno sostenuti e tanto si può fare, tanto si sta facendo. Vanno aiutati sia da un punto di vista di giustizia sociale, da un punto di vista etico, di solidarietà. Vorrei dire che proprio chi non ha né la preoccupazione della giustizia né della solidarietà abbia almeno quello dell'egoismo, perché se aiutiamo queste popolazioni a vaccinarsi c'è meno rischio che incontrandoli possiamo rimanerne colpiti. Quindi comunque allargare lo sguardo. È un Natale di raccoglimento anche questo perché non ci permetterà troppe stravaganze, troppe distrazioni, non ci saranno le tette in piazza, non ci saranno tante manifestazioni a cui eravamo abituati e necessariamente questo porterà a riflettere. Allora piuttosto che immalinconirci di queste situazioni proviamo a raccoglierci, a chiederci realmente quali sono i motivi che sono alla base di questa festa. Sì, poi ecco, lo stiamo vivendo in queste ore, a volte stiamo vivendo, anzi proprio in questi giorni, come se fosse un passo indietro e sento molte persone che ormai dicono, insomma, ricadono in una sorta di scoraggiamento, comunque dire ecco, si rifà un passo indietro, non riusciremo mai, eccetera. E un'altra cosa che ho notato è che forzatamente, però con i vari isolamenti, quarantene, eccetera, forse siamo stati anche costretti a fare un po' più i conti con noi stessi, no? Sperimentando anche cosa significa stare 10, 20 giorni da soli senza poter avere contatti con i familiari, eccetera. Questa esperienza comunque negativa, tra virgolette, può essere trasformata in una sorta di rielaborazione interiore spirituale per trarne anche qui un vantaggio in positivo rispetto all'esperienza negativa che può essere appunto il contagio, la quarantena, l'isolamento, eccetera, eccetera. Possiamo, come dire, ribaltare la medaia e vederne un percorso di crescita personale e spirituale? Sicuramente sì, per chi è credente, il credente sa che non accade nulla di male se non per un bene più grande. Allora, da credenti, io farei questa riflessione che cos'è che Dio oggi ci vuole insegnare, anche più in generale, che cosa la natura, la storia ci vuole insegnare. Una riflessione spontanea, mi viene, è il tema della precarietà, cioè renderci conto della nostra nativa fragilità. E questo è un motivo di riflessione, ma di presa di coscienza. Noi non possiamo far finta di essere superuomini, noi siamo fragili. E allora dobbiamo, come dire, non dobbiamo confondere quella che è la felicità dell'uomo, la serenità dell'uomo, una vita bella, con le aspettative che noi ci creiamo di quest'anno. Perché magari uno pensa che tutto debba migliorare, debba crescere, debba superarsi, poi alla fine non facciamo i conti con la precarietà, per esempio, che è legata al virus. Nessuno ci aveva mai assicurato che saremmo andati sempre meglio. Ci siamo creati noi delle aspettative a riguardo. Allora dobbiamo fare i conti col fatto, per esempio, di non poter programmare a tutti i costi, di poter quindi godere anche dell'immediato, del bene che possiamo avere in un piccolo momento di tempo. Dovremmo imparare a valorizzare le occasioni che abbiamo pensando che non potremmo averne altre. Se c'è un bel panorama, una bella alba, un bel tramonto, io posso documentarne tanti, vista la posizione della mia casa, devo godermelo come se il giorno dopo io potessi non avere questa possibilità. Una volta nelle chiese, nelle sacristie, c'era scritto, nel luogo dove il sacerdote si vestiva prima di iniziare la messa, celebra questa messa come se fosse la prima, come se fosse l'unica, come se fosse l'ultima. Ma era un modo non per spaventare, ma per far godere e non entrare nella routine. Allora, il virus ci sta punzecchiando. Quelle occasioni che abbiamo, e comunque riconosciamolo, stiamo molto meglio dell'anno scorso, soprattutto perché c'è meno gente ricoverata e ovviamente meno morti, anche se non possiamo avere tutto, godiamoci quello che c'è e impariamo ad accontentarci. Questo ci farà prendere coscienza della nostra debolezza, anche della nostra fragilità, e non presumere di essere superiori magari agli altri. Sì, che poi debolezza però non significa allo stesso tempo anche per forza un aspetto negativo, non deve avere per forza un'accessione negativa questa parola. La vulnerabilità è una dimensione, secondo me, che noi a volte recitiamo una parte, facciamo finta di essere diversi da quello che siamo. Invece noi dobbiamo semplicemente riconoscere, la debolezza ci fa riconoscere, di aver bisogno di non essere autosufficienti, di aver bisogno anche degli altri, e quindi di un aspetto relazionale più maturo. Anche il fatto di rispettarci con i distanziamenti, le mascherine, in fondo altro non è che rendersi conto della propria vulnerabilità, quella degli altri, e quindi di imparare a rispettarli, rendermi conto che gli altri ci sono. Pensare a un mondo in cui ognuno fa quello che gli piace non esiste e il virus ci ha definitivamente fatto capire che non può esistere. Nel messaggio di Natale di quest'anno, tra l'altro ricordiamo che da stamattina alle 11 è stato pubblicato anche come videomessaggio, sia sul sito dell'Arcidiocesi che attraverso i canali social, YouTube, della Corona che permane, eccetera. Lei parla anche di questo, ovvero citando il Cardinale Martini, di come i pastori non mettano in dubbio, insomma, vanno, vedono e si fidano. Deve essere anche un po' questo l'approccio con cui dobbiamo porci, insomma. La radio è bella perché si rivolge a tutti, che siano appunto credenti, non credenti, eccetera, però credo che, questo lo diciamo, lo dico spesso, in quelle che sono le radici cristiane che la nostra società ha, questi valori comunque sono importanti a prescindere, no, dal fatto se si va in chiesa, se si va a messa, eccetera, sono, come dire, valori che fanno parte dell'uomo. Sì, sì. Nel messaggio di auguri ho voluto prendere spunto da un bellissimo dipinto che abbiamo qui a fermo, che è il Baciccio, l'adorazione dei pastori del cosiddetto Baciccio, l'autore. Si trova nella chiesa di San Domenico. invito, colgo questa occasione per invitarvi ad andare a vederlo perché è molto bello, da noi è più conosciuto il Rubens, ma il Baciccio non è da meno, è molto bello, la visita è gratis ovviamente, mi dici potete andare tranquillamente, e può dare qualche spunto di riflessione. Quale spunto ho preso io? Ho preso lo spunto del movimento, perché Baciccio, ho letto, era un pittore che non voleva che i suoi modelli rimanessero fermi durante il suo lavoro, quindi li faceva muovere in modo naturale. Questo ha fatto sì che le sue opere infondano movimento e dinamismo ai protagonisti. In che cosa erano dinamici i pastori? Questo si nota molto vedendo il Baciccio, vedendo l'adorazione dei pastori, nei pastori appunto. I pastori sono in movimento perché si sono fidati di un angelo che ha appasso loro mentre stavano vegliando il gregge, dicendo andate a Betlemme, troverete un bambino in una mangiatoia e vede i giudei. I pastori, che avrebbero potuto non portarsene a pensare a un brutto sogno, o a un incubo, invece si sono destati e sono andati. Arrivati lì vedono una scena naturale, direi molto comune, come poteva essere una mamma che ha appena partorito in una casa, in una grotta, e si prostrano in adorazione. Pieni di gioia, dice il testo, se ne ritornano lodando Dio. A me piacciono molto questi pastori, che erano una di quelle categorie che nessuno apprezzava come pescatori, non a caso Gesù si serve di pastori e di pescatori, che però era una categoria che, come dire, non aveva tante certezze, tante sicurezze anche materiali, quindi erano poveri, potremmo dire, nel senso più profondo del termine. Ed erano persone, cioè, che non avendo sicurezze materiali, si sono fidate di un annuncio, perché avevano un desiderio, un desiderio di incontro, un desiderio di relazione, e riconoscono nella loro semplicità, nella loro semplicità, in questo bambino un personaggio, una persona importante. Si sono fidate degli angeli, si sono mosse, e lì hanno trovato gioia. Allora il mio invito è questo, fidarci di più innanzitutto. Se al posto dei pastori ci fossimo stati noi oggi, avremmo detto, oddio, ma dove sta la fregatura? Esatto, capito? Non hanno dato la notizia o meno, se no è una fregatura. Noi usiamo anche certi proverbi cinici, ai quali io non credo molto. Fidarsi è bene e non fidarsi è bene. Ma chi l'ha detto questa cosa fa? È meglio per fare che cosa? Perché rimani più triste, rimani fermo, non fai nulla, rimani nella situazione di prima, non hai scommesso, non hai fatto un passalare. Fidarsi, imparare a fidarsi è, chi è credente, imparare ad affidarsi, cioè poi di consegnare la propria vita. Imparare a riconoscere nelle piccole cose quelle grandi. I pastori non hanno visto un rete che è un panda, hanno visto un bambino afferanato. Nella piccolezza Dio opera grandi cose. E questo aiuta a gioire e a lodare Dio, cioè ad essere grati, perché la lode di Dio è un'esperienza di gratitudine. Quindi anche questo tema della gratitudine noi forse abbiamo bisogno di riscoprirlo. Pensiamo che tutto ci sia dovuto, che abbiamo diritto a tutto. Invece imparare a ringraziare e a lodare. E prendiamo esempio dei pastori. Fidarsi, mettersi in movimento soprattutto, gioire e lodare. Per me può essere un buon modo per vivere il Natale. Poi non dimentichiamo che noi non dobbiamo confondere la festa del Natale con Natale. Cioè il Natale, che ne dicano quelli che nella comunità europea volevano derubricare il Natale è una generica festa. Il Natale è celebrare l'incarnazione del figlio di Dio. E questo per chi è credente è un fatto di estrema importanza, perché significa che Dio non è lontano da te, ma è dentro la tua vita. Intorno a questo c'è la festa. Quindi possiamo festeggiare di meno, ma la riflessione religiosa rimane intatta. La possiamo vivere come vogliamo. Assolutamente. E tra l'altro ecco, quando viviamo, per vivo, la chiesa come un membro della propria famiglia, un genitore con cui a volte ci si arrabbia, si litiga, ci si allontana, ci si riavvicina, perlomeno io a volte mi arrabbio, dopo ritorno, insomma, c'è questo un po', come dire, una sorta di chiesa genitore, una chiesa mamma con cui è normale a volte avere dei diverbi, ma poi, se non ci fossero sarebbe meglio. Però, e poi si ritorna sempre. Tante persone, dopo aver vissuto anche esperienze drammatiche, che non devono essere la motivazione per riavvicinarsi, ci mancherebbe, perché ce ne sono tante che invece lo fanno vivendo belle esperienze positive di gioia. Però credo che la chiesa, anche grazie a Papa Francesco, eccetera, abbia ritrovato questa fiducia da parte della gente, perlomeno la stia ritrovando, perché è tornata a parlare anche con un linguaggio semplice alla gente e alla quotidianità delle persone. E' vero questo, anche perché il Papa ha una carica di simpatia che coinvolge e che travolge. la sfida di questa nuova apertura, delle tante aperture che il Papa ha proposto alla comunità cristiana e che sono state tutte recepite, il movimento di attenzione che c'è stato, la sfida è quella di far sì che queste persone che si avvicinano alla chiesa, o meglio, che si avvicinano a Gesù Cristo, si riavvicinano a Gesù Cristo e attraverso la chiesa possono riscoprirlo sempre di più, vengano accolte e aiutate a fare un cammino, perché non dimentichiamo che la fede cristiana non è una fede di individui presi singolarmente, ma è una fede di una comunità, che non è un accessorio. Quindi non è sufficiente che uno riscopra la fede, si senta riaccolto, gli viaccia il Papa, alcuni per giudicare se sto credendo o no dicono ma questo Papa mi è simpatico, sono troppo poco per contabilità. La sfida è, ma è una sfida non da caricare sulle persone, ma è da caricare sulle comunità, le parrocchie, far sì che queste persone che hanno qualche segnale di riavvicinamento vengano accolte e si sentano a casa, si sentano cioè non in una chiesa che non vede l'ora di insegnarti le cose, ma che non vede l'ora di volerti bene come una mamma, poi ti insegnerà pure le cose se ti vuol bene. Certo, già io sforo sempre però andiamo, prendiamo i nostri tempi. Siamo arrivati quasi a fine anno, facciamo un po' il punto sullo stato di salute della nostra arciniocese, insomma la più grande delle marche, in questi ultimi anni è stato molto bello, abbiamo visto anche tanti piccoli comuni, penso ai comuni dell'area montana, eccetera, riapproparsi, parlando di comunità, delle proprie chiese, chiuse dopo il sisma, eccetera, che rappresentano il luogo per eccellenza dove la comunità si ritrova, e storicamente insieme agli oratori, al catechismo, eccetera, sono quegli elementi di socializzazione, di comunione, eccetera, che si iniziano sin da ragazzini, sin da bambini, no? Quindi restituire, riaprire le porte di questi edifici che sono sì dei contenitori, ma in realtà poi hanno un'anima molto importante fatta da chi li vive ogni giorno, credo che sia stata per voi una grande soddisfazione, così come lo è stato per le tante comunità e tanti cittadini dei nostri comuni dell'entroterra. Io penso che in quest'anno non ho fatto bene i conti, anche perché gli ascoltatori devono sapere che noi le domande non ce le prepariamo prima. No, no, io sto, andiamo a vedere. Se tu mi avresti fatto questa domanda, te avresti fatto qualche numero. Stavo pensando che ne abbiamo pubblicate tante. Penso che una quindicina di chiese siano state a vario titolo riaperte, alcune perché erano completate le messe in sicurezza, le ultime, altre perché abbiamo creato dei centri di comunità, altre ancora perché con i fondi dell'otto per mille sono state consolidate e riaperte. Ma 19-15 chiese, la chiesa, l'edificio è un segno, segno significa qualcosa di materiale che rinvia a una realtà che non facilmente tu puoi vedere. Allora innanzitutto è il segno, certo, della presenza di Dio, ma è anche il segno, dicevamo prima, di una comunità cristiana, perché Dio è presente ma in una comunità. Una comunità cristiana che non è un fatto solo spirituale ma anche materiale, perché magari è quella comunità che con i sacrifici di tanti nei secoli ha costruito queste chiese. Perciò questo valore così importante, cioè storico, sociale e religioso, ha un suo senso e ogni volta che vengono riaperte le chiese sono certamente momenti di grande, come dire, di grande congresso di popolo, di festa. Sto pensando adesso alla riapertura della chiesa del Santissimo Sacramento a Grottazzolina, per esempio, che si aspettava da tanto tempo che si riprendesse. Quindi sono stati momenti di rinascita della comunità. E questo dice come specialmente nei piccoli centri anche il Covid non si è riuscito così facilmente a, come dire, a zerare la partecipazione. Anzi, nei piccoli centri è stato possibile, grazie ai piccoli numeri, di poter continuare a incontrarsi quando è stato autorizzato a farli in presenza, perché appunto non c'erano problemi di assembramento. Le realtà dell'interno della nostra diocesi sono, a dispetto dei numeri, la gran parte è molto vivace, non fattive, anche per la presenza dei sacerdoti che da tanto tempo vivacizzano questa attività. I grandi centri, invece, le parloche sono molto più esposte sul versante anche dell'aggregazione giovanilla, dove è possibile. Questo rimane ancora una grande difficoltà. Non riusciamo ad aggregare tutti i ragazzi e i giovani che vorremmo e che magari loro desidererebbero più. Stiamo cominciando a incontrare un problema insieme a tante risorse, e cioè che la mancanza endemica di sacerdoti, perché non ce ne sono, purtroppo ne muoiono diversi all'anno e se tutto va bene se ne ordina uno all'anno finora, ma agli anni prossimi ce ne saranno sempre meno, fa sì che dobbiamo piano piano costruire un modello di chiesa che non centra tutto sul prete, ma sui laici insieme al prete. Per cui non sarà più possibile sicuramente in futuro avere un prete in ogni parrocchia, già adesso non è così, ma le parrocchie potranno continuare a vivere se la comunità se ne farà carico. È una partecipazione della comunità che deve anche mettersi... Non solo di tipo economico. No, 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 non è economico, anche mettersi, come dire, a servizio. I ministeri, cioè i modi di servire nella chiesa, non possono essere tutti accentrati sul prete. Non può fare da organizzare un pellegrinaggio, a sostituire la lampadina, a occuparsi dei lavori e a comprare le ostie e a dire la messa. Cioè il prete dovrebbe accogliere le persone, celebrare i sacramenti, incontrare gli ammalati, ma tutto il resto la comunità cristiana lo deve fare insieme. Questo un po' si è perso, prima forse c'è, non lo so, insomma, era sentito. Purtroppo uno dei segnali che stiamo vedendo... Io ricordo c'era la signora che andava a pulire la barrocchia, cioè questo c'è ancora, ci mancherebbe. Vedi Paolo, non è solo una questione di saper organizzare i servizi, perché un bravo prete, e può essere anche un ottimo manager, c'ha tanta gente intorno, tu fai questo, tu fai questo, ma non è questo il modello ancora, questo è ancora un modello immaturo, il modello della collaborazione è insufficiente, c'è gente che lavora con me, e il modello invece della corresponsabilità, cioè tutti siamo responsabili insieme di una comunità, e io come prete devo mettermi in ascolto anche di quello che gli altri mi possono dire, anche sul mio ministero, cioè non è che siccome io sono abilitato a fare delle cose, non mi deve toccare nessuno, stiamo nel cammino sinodale, come si dice, in questo periodo, cioè ci stiamo avviando come Chiesa italiana, un grande percorso in cui riscoprire come lavorare insieme, come fare Chiesa insieme, e questi sono temi che oggi sono all'ordine del giorno, e sono esattivi. Ah beh, no, prego Jessica. No, no, sono d'accordo. Ah, sentivo che... Sì, all'unico perché penso che sia giusto, che sia così, che si faccia parte di una comunità e che tutti abbiano modo di poter interagire, di poter portare avanti, no, cioè insieme... Sì, sì, cioè è, tre virgolette, rivoluzionario anche il discorso della responsabilità, perché io non ce l'ho pensato, però è vero, a volte uno si sente come dire, ok, tu fai questo, tu fai questo, eseguo e finisce lì. Sulla carta... È bello perché responsabilizzi proprio anche l'individuo, cioè a prendere coscienza proprio che fai parte di una comunità e quindi portare avanti i valori. Dobbiamo partire da noi, prego, perché se dobbiamo favorirlo o no. Io spesso faccio un esempio. Sappiamo che nelle parrocchie ci sono i consigli pastorali parrocchiali, cioè sodalizzi i gruppi di persone che dovrebbero appunto riflettere insieme sulle scelte che sono decisive per quel territorio. Se un parroco convoca un consiglio pastorale e incomincia l'esordio dicendo allora signori, ho pensato questa cosa qua, che potremmo fare per la parrocchia, uno, due, tre, che ne dite? È un modo sbagliato di cominciare. La domanda che probabilmente va fatta all'inizio dell'anno è il nostro territorio, secondo voi, quest'anno da che cosa deve partire? E come comunità cristiana che cosa dobbiamo puntare? E poi riflettere insieme sulle priorità. E poi decidere chi le porta avanti. Però a noi manca una riflessione sul territorio. Spesso siamo convinti di sapere già tutto, dico questo come preti, e quindi ogni anno dobbiamo solo organizzare chi fa che cosa. È troppo poco. Perché se facciamo così la gente prima o poi si disaffezionerà e accadrà quello che purtroppo già sta accadendo. Stanno diminuendo di molti i catechisti, gli animatori, i volontari, anche nella carità. I volontari sono sempre di meno e sempre più di età avanzata. Ma anche i componenti dei cori. Se tu vai nei nostri cori parrocchiali, vedi che sono tutti, oltre una certa età. Lì ho fatto anche, voglio dire, di necessità, perché oltre una certa età poi il fiato... Bisogna avere pure la voce, perché io verrei volentieri a fare il coro, ma non ve lo consiglio. Però, tra l'altro, voglio farvi un plauso per questa bellissima iniziativa che avete avuto in cattedrale, con i cori dalle varie parrocchie che vengono ad animare le celebrazioni della domenica, perché è veramente bello e rende ancora di più l'idea di unità della nostra diocesi, che è molto grande. Quindi è stata davvero una bella iniziativa. Beh, questo è merito del rettore del Duomo. Bella, Don Michele lo sai. Ci complimentiamo per queste belle idee. Celebrazioni di Natale. Allora, domani cattedrale 11.30, no? Quindi c'è quella mezz'ora d'anticipo. Quella d'anticipo, perché la messa dura un pochino di più. Pochino di più. Vabbè. Siamo tranquilli, all'una tutti a casa. E invece stanotte, stasera, c'è la messa... Ci sono... E a macchia di leopardo. Allora, c'è chi ha mantenuto la tradizione della messa della notte, più o meno intorno a mezzanotte, adesso non vi so dire le varie parrocchie, e ci sono altre parrocchie che invece hanno spostato magari un po' più in avanti la messa vespertina, quindi che so, la messa di Natale alle 19. Alcune varrocchie hanno fatto, hanno proposto la messa, che so, alle 19.30, per esempio, invitando poi però le famiglie che quando torneranno a casa e, verosimilmente, saranno riunite a cena a mezzanotte davanti al presepe a fare un momento di preghiera. Bello. Anzi, questo lo invitiamo anche a far riscoprire il presepe, perché è bellissimo. Io concluderei però con il pensiero e gli auguri forse di chi maggiormente vive queste feste, anche nella sofferenza, nella solitudine, eccetera, che poi sappiamo bene quanto i momenti di festa, in primis il Natale, siano anche un amplificatore un po' di quelle che sono le sofferenze, delle perdite, delle famiglie avvenute durante l'anno. Quindi, insomma, purtroppo tante famiglie vivranno questo Natale in modo diverso. Tante persone non hanno la possibilità di viverlo a casa, perché negli ospedali, eccetera, eccetera. E io concluderei proprio con un messaggio per queste persone, no? Eh sì, l'hai detto già tu, quindi non posso che ribaltare quello che tu hai detto. Cioè, chiederei a tutti di... Allora, la parola auguri dovrebbe venire da un verbo latino che vuol dire aumentare. Quindi, quando noi diciamo a uno auguri, vuol dire che gli auguriamo di crescere, di crescere. Che cosa vogliamo che gli altri crescono e che noi cresciamo? Sicuramente in una, abbiamo detto prima, il Covid ci sta facendo, dovrebbe farci riscoprire quanto siamo più legati gli uni agli altri. Allora, farci aumentare nella solidarietà, anche solo spirituale, anche solo un pensiero, anche solo una preghiera, così come ciascuno magari la sa fare, invocando a suo modo, per quelli che non hanno magari la possibilità come noi, non tanto di avere possibilità economiche per festeggiare, perché abbiamo detto che quest'anno ancora una volta lo faremo in modo piuttosto sobrio, ma avere quella ricchezza, che è veramente una ricchezza, di avere almeno un'altra persona con cui stare insieme e ringraziare il Signore perché è vicino a noi. E l'augurio anche di aumentare nella nostra coscienza civile, coscienza di cittadini, coscienza di persone che sanno vivere insieme, perché il Natale dice incarnazione. Dobbiamo imparare a sentirci parte di una storia, di un territorio che per noi, nella Diocesi di Fermo, è il nostro territorio fermano. Essere inseriti, inseriti significa essere attenti a quello che accade e dare il nostro contributo perché è il mondo migliore. Grazie, grazie all'Arcivesco Monsignor Rocco Pennacchio, Buon Natale. Grazie a tutti.